Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono di EFALTERNADIGIOI, sono qui in un nuovissimo episodio di Batman Arkham Knight in questo episodio non urlerò tanto e non sarò manco tanto attivo perché appunto sono le 6 e mezza di mattina e mi sono svegliato presto perché sono da solo a casa quindi non dovrebbe esserci nessun problema di non muore eccetera, vedrò di finire il gioco e nel scorso episodio siamo rimasti appunto in questo punto che abbiamo distrutto i due titani e dovevamo trovare Ivy, tipo Ivy senza WSHAB, vabbè ok avrò bisogno di qualcosa per superare questa voragine di cosa? oh cazzo buttwing, magari si chiama il buttwing vabbè entrata bella scenica eh ah il lancia cavo vabbè è utile questo è buono un po' non cazzo non cazzo non cazzo non cazzo almeno questo non è difficile da prendere come... scusate ma non mi ricordo che cos'è questo? ah il jealous proceed il cosa? vabbè avete capito dove devo andare? capo qua sono di tutti più stanti dottori qua è qua su di Halley non andiamo via eh devo andare a cercare Ivy quindi devo andare via saprai sconfiggere una mente come la mia no mo' proprio non fotturo sinceramente nè mo' e nè mai porco almeno c'è un manga corto almeno c'è un manga corto ok parte una scena animata eccola qua ho subito l'ho trovata bene tesorucci ci sono qui io adesso povere piccole sì lo so che ci ha scoperte ma non gli permetterò di farvi del male lo ucciderò Ivy la dottoressa Yang ha mutato queste piante per produrre il venom sì e ho saputo da fonti ufficiose che quella strega ha pagato per questo mi serve il tuo aiuto per trovare l'antidoto perché dovrei? che Joker si diverta sarà un piacere vedere che ti contorci sei stata troppo al buio ogni pianta di questa isola riceverà lo stesso trattamento se non collabori c'è una pianta che cresce nelle viscere dell'isola di Arkham è in grado di annullare gli effetti di questa variante di Titan dove si trova? oh nella tana di Killer Croc pensavi che sarebbe stato più facile vero? ma sono macchine in modo di rinni torna nella tua cella altrimenti dovrai vedertela con me ti aspetterò oracle devo trovare il modo di entrare nella tana di Killer Croc si trova da qualche parte sotto l'isola di Arkham il sistema non dice dove lo tengono ho trovato una porta vicino alla Batcaverna ma è sigillata deve esserci un altro modo di entrare ho lasciato la guardia Cash nella residenza spero che lui possa illuminarmi sulla tana di Croc oh cazzo Killer Croc merda beh ovvio arriva un attimo aspettate e vi dico pure un caccio in volo guardate tutti i morti tutti i coglioni guardate qua ma io la schia non fai di colpire che caccio spettacolo bello ha 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 eccolo sto scendendo eh isola di Arkham questo che cos'è? cos'è questo? boh sta all'Achile Croc o no? non lo so non esiste tutto perché stai salendo ce l'ha perso tutta comunque credo di si sta uscito il pazzo vuol dire di si allora però da dove salgo? da qui che da qua non ti può salire vabbè credo di stare andando bene poi se sto sbagliando direttamente strada non lo so questa vela bribe mi ricordo però non da diritto proprio così ok ok ha fatto bene ok abbiamo ridotto la corrente sei in trappola lì dentro che cazzo colpisci e uno va cazzo cazzo perfetto bellissimo andiamo via però che mi sono già rotto il cazzo di questi boom di merda allora ma ho rischiato un voto ma un muo suono l'animo stasso bene a po' è andato è andato è andato l'ho fatto io è andato ok no io si picchiando quindi lasciateli picchiare non lo vedo i coglioni aspetta vengo con te sei cieco? guarda per terra c'è qualcosa che non mi piace per niente hai sentito il capo ce n'è un altro qui che cosa succede troviamolo i prossimi saremo noi capito lasciatelo qui sparpagliatevi oh gii ma che cazzo mi ho più avvicinato più vi faccio esplodere e morite tutti guardate avvicinati pure tu ecco io come è morto qui bruttissimo succoso vabbè sei morto a posto fine ho vinto adesso devo andare via ciao di qua si permesso lo voglio morto non gli permetterò di far soffrire ancora le mie cretu ah picco cazzo che cazzo non chiamano albi per niente ammetto che mi aspettavo una pianta di quattordici metri ma non sempre le cose vengono come vorremmo vabbè succede il tutto comunque io devo andare qua ecco qua uscire dalla porta il titan deve avere un effetto diverso su avvi le sue piante stanno crescendo tra poco saranno fuori controllo eh sì è detto bene sembra che le piante subiscano un'altra mutazione coglione quel baccello contiene delle spore simili a quelle che ha usato avvi per attaccare gotham l'anno scorso sono mortali bene bene io direi che per questo episodio è tutto se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi io adesso registrarò gli altri episodi se volevi no che volevo dire non mi ricordo più ormai questo tutto va bene a fare niente noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti Grazie per la visione!